Bisogna avviare un dialogo con i conservatori, quindi ripeto, noi siamo disposti a votare a von der Leyen anche con i socialisti, mai con i Verdi, per noi diventerebbe praticamente impossibile votare con un accordo con i Verdi, ma chiediamo al PPI e a tutti di aprire un dialogo alla von der Leyen, anche aprire un dialogo con l'ISIAR. Mi preoccupano più i Verdi che i conservatori? Assolutamente sì, mi preoccupano più i Verdi perché non condivido la politica ambientale dei Verdi, è una politica ambientale che ha provocato danni enormi alla nostra economia, mi preoccupo anche del problema sociale del quale i Verdi e anche la sinistra mi sembra poco preoccupata, sono contro qualsiasi ipotesi negazionista, come c'è anche da parte di alcune forze di estrema destra, ma i conservatori e oggi le parole della Meloni che è non soltanto il Presidente del Consiglio italiano, anche il leader dei conservatori europei per quanto riguarda l'ambiente sono state molto chiare, quindi quella posizione a me sta bene perché è praticamente la nostra posizione, quella del Partito Popolare Europeo, non mi sta bene la posizione dei Verdi, quindi quello è il discrimere, questo preferisco i conservatori ai Verdi, questo è… Non è chiaro una cosa, quindi se c'è un accordo con i Verdi, poi… Che per noi è impossibile, noi abbiamo votato Ursula von der Leyen per governare l'Europa al Congresso, l'abbiamo votata convintamente, l'ho ribadito, lo ribadisco in questo momento.